ma guarda manco a farlo apposta purtroppo è un disco che si chiama Miss you dei Rolly Stones che ha doppia valenza perché fondamentalmente sia perché Claudio ci manca e non potrà non mancarci ma sia perché lui era spesso solito suonarlo in questo party che facevamo insieme che si chiamava Small era una edit che poi in realtà non ha mai confessato bene di chi fosse io credo di esserci risalito ma era un promo quindi fondamentalmente non c'era scritto quindi neanche la sveliamo era una edit di Miss you dei Rolly Stones che ogni volta che l'ascolto è chiaramente assolutamente Claudio grazie a tutti grazie a tutti